Questo video contiene alcune scende di violenza, se pensate che vi possa dar fastidio vi sconsigliamo la visione Sto arrivando Lo vediamo Io voglio stare all'albero di Natale Oh ma è più bellissima No È fantastica, c'è scherzi Ci sei rimasto male? Ti sei offeso? E ragazzi, come va? Io sono Feriniki E io sono Stef e che ci giochiamo a GTA 5 E buon Natale! Yeah! Che bello, finalmente anche il Natale è arrivato, sono felicissima Guarda che bell'alberello che hanno messo in casa mia Ho visto, è troppo bello È la cosa più bella di questa casa Ovviamente anche qua su GTA faremo un episodio speciale per Natale Cercheremo di comprare la casa di Feriniki così avrà anche lei un suo albero di Natale Giustamente Quindi combineremo l'episodio che dovevamo fare classico a delle cose natalizie Sapete cosa c'è fuori da questa casa? C'è la neve Hanno messo la neve per Natale Di solito la mettono nel periodo di Capodanno invece questa Hanno deciso di metterla anche per Natale Non appena sono entrata mi sono super emozionata perché è bellissima la città Poi la neve non la vediamo mai quindi vederla nella città di GTA è fantastica È davvero fantastica Volevo farle vedere dalle finestre ma non si vede Andiamo, prima di tutto, a comprarci i vestiti Proviamo e vediamo la neve Perché si possono fare le palle di neve E lanciarsele Combattere così Poi proviamo l'arma che ci hanno regalato che fa i fuochi d'artificio Dopodiché facciamo un pochettino di cose per fare i soldi Andiamo? Assolutamente sì Guardate che bello Mette allegria la neve Mette allegria È troppo troppo bello Poi in questa cittadina devo dire che ci sta benissimo Devo dire che ci sta benissimo Sembra proprio una città che di solito è nevata Vero? Assolutamente sì Ci sta super super bene Che noi tanto stavamo criticando questo posto Invece è davvero bellissimo Innevato Mi piace un sacco Buongiorno è aperta tutta la notte oggi per Natale Fa bene Certo, certo Fa bene Con gli sconti Gli sconti Fa un sacco di soldi Da cosa iniziamo? Le parti superiori Allora ci dovrebbe essere proprio la sezione dedicata Quindi devi andare direttamente nella sezione festiva Aggiunti tutti Adesso decidiamo Allora maglioncino Questo qua è già bellissimo E per ora io occupaggio questo Questo mi piace un po' meno No? Bellino ma dai È troppo banale Io non so scegliere Lo so È difficilissimo Lo so che sarò in difficoltà Ci sono anche Ma quelle luci Cosa vuol dire? Che abbiamo le luci addosso? Che vuol dire? Dove le hai visti? Praticamente vedi che ci sono gli stessi maglioni Poi ti fa Tipo alberi grigia E alberi grigia con luci Che vuol dire? No, per ora la renna Per ora io sono con la renna No, io volevo la renna È fantastico Per ora sono con la renna Poi vediamo Anche perché ho visto Facendo veloce prima Che ci sono i pigiamoni E quindi credo che io mi metterò un pigiamone Perché è troppo bello Sono bellissimi i pigiamoni Non hai capito? Eccoli Allora Vai per ora questo qua Anche quello era bellino I pinguini No, è difficilissimo Sono fantastici Io rimarrò qui a vita Sono fantastici Te lo dico Sono fantastici Ok Ah, belline Ci sono pure le giacche Ok 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 Io ho scelto Mi sembra Perfetto così Non ci credo Che ci sono anche questi Allora Corna da renna con luci Elfo con luci Elfo di lana con luci Oh mamma mia No Ma cioè come fai? È possibile? No, sono bellissimi Ok Questa volta sono più in difficoltà Per scegliere Il cappello classico Ci sono anche i cappellini Come ci rivemo noi Tu da pigiamati devi prendere la cuffietta Cioè assolutamente per sempre Proprio cuffietta Tutta la vita Allora Forse quella Io sono indecisa No è fantastica Io sono davvero Molto combattuta Perché sono davvero complicati Cioè mi stanno mettendo In una grave difficoltà Eh lo so Perché no È incredibile Ma ci sono anche Le scarpe? C'è solo un po' Poglie di scarpe Che sono fantastiche Andiamo a vederle Perché io sono scalza in questo momento Io non ho messo Scarpa da Elfo Ci sono le scarpe da Elfo Però perché mi ha cambiato tutto il resto? Finito di farci Ho esagerato Oh mamma mia Ho esagerato coi colori Ma secondo me è Natale Bisogna esagerare Bisogna esagerare Ho messo la maglietta di Babbo Natale Mi diceva con luci Però io non vedo luci Il cappellino che è un budino Il mio cappellino è un budino E poi dei pantaloni a righe E le scarpe da Elfo Tu sei scalzo alla fine? Sì io sono scalzo Col pigiama E il cappello natalizio Siamo bellissimi Siamo bellissimi Che bello di giorno Di giorno con la neve è ancora meglio Come si prendeva la neve? Con la G G G G G Premi G Ok Adesso vengo davanti a te Ah mi hai centrato in faccia Come le tiri scusami? Tasto destro E poi sinistro Ah tasto destro Tasto destro E poi sinistro E vabbè No è bellissimo Aspetta Tasto destro E poi sinistro Dai aiuto Aiuto Mi nascondo qui dietro Fatti prendere una in faccia Dai Fatti prendere Che bellissima Non so se ne la mai Ciao No è bellissimo Vai Aspetta In faccia proprio Mi è mancata la faccia No io ho visto che t'ho preso Ma scherzi Riprovaci Ti ho visto Infatti ti ho fatto anche danno Eccola Ecco adesso te l'ho presa per bene Bellissimo No è fantastico questo aggiornamento È troppo troppo bello È il momento Di provarlo Che cosa? Il cannone pirotecnico Ok Allora vado in prima persona Ma non so di me Non so di me Non so di me Buon Natale Buon Natale Ma sei una persona terribile Buon Natale Per Natale Dove abbiamo messo tutte le grepe stasine Non mi devi tirare il razzo in faccia Infatti sei diventato un fuoco artificio vivente Non si tirano Vado verso l'alto Vai ci provo anch'io Sei pronto? Vai Vai Che fa? Ma è bellissimo Fai fuochi d'artificio Bellissimo Bellissimo Carino Carino Potevano farci dei regali migliori Tipo 10 milioni Tipo una bella auto Una bella auto Anche Una renna Una renna Sì con la carrozza Bellissima Bellissima Comunque Allora Prima di tutto due cose Andiamo a prenderci La mia macchinetta Ok Dove è casa mia? Dalla l'altra però Esatto Ci prendiamo la macchina E andiamo proprio in città A vedere tutta la zona innevata Assolutamente sì Dopodiché cerchiamo di fare I 40.000 Che ti mancano A te Siamo arrivati in città Oh che bello La città è ancora meglio È ora di vederla Allora manca poco Ai palazzoni Vari Quindi non vedo l'ora di vederli Allora andiamo da qui Facciamo così Andiamo in questa parte della città E vediamo un pochettino Come rende Comunque Davvero bellissimo Nei minimi dettagli Hanno fatto una figata pazzesca E ora non vedo l'ora Di iniziare l'attività Che dobbiamo fare oggi Perché sono curiosissimo Anch'io non vedo l'ora Almeno a Natale Siamo in 10 Almeno a Natale Ci fanno felici Accidenti Che bello Che bello Sarà che la nuova Amore da l'Italà Vogliono giocare Aspetta che forse si flippa No Aspetta Aspetta Non festeggiamo Ok Ok Ma non siamo in squadra assieme Non siamo mai insieme Vabbè Ma no Io voglio andare da l'ora Non ne faccio una ragione Sono pronto Credo che uno a caso In entrambe le squadre Sarà un Juggernaut Ovvero un tipo Super mega forte Semi impossibile Da ammazzare L'obiettivo è ammazzare Il Juggernaut Della squadra nemica Credo Juggernaut Juggernaut È il vero protagonista Per inizio devi distruggere Il Juggernaut nemico Senza farti schiacciare Vedi Una della mia squadra è uscito Aspetta Non pronto Voglio andare nella tua Come posso Uniscite la squadra Ce l'hai fatta? Sì Siamo 5 contro 4 Devi stare attentissima Seguimi Che cosa stai correndo dritta Io voglio andare ad ammazzarlo Sono già morto Ma come? Non lo so Ma posso torno Sono in vita Ok sì sì Puoi morire Ci stanno sparando di brutto Attenta che arriva il Juggernaut Aspetta 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 Ok lo sto sparando Lo vedi lì in fondo Aia che male che fa Aspetta Sto cercando di uccidere quello Attenta Ti sto cercando di coprire Vai coprimi Lo sto mancando di brutto Io un po' l'ho preso Ma sono bassissima L'ho ammazzato Attenta All'altra Ah Ecco Da dove sono arrivati? Dall'altra E vabbè Pazienza Ma non siamo dovuti farlo fuori Allora dove è il Juggernaut? Era lì Era lì Stanno vincendo loro di pochissimo In basso a destra Hai la vita del nostro E dell'oro In questo momento Stanno prendendo vantaggio Ok 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 Allora Dobbiamo ucciderlo Sì Voglio vincere Voglio i soldi per la mia casa E per una buona azione Ok Gli ho ucciso uno E vabbè Ma Cioè è fortissimo Te l'ho detto È fortissimo Non l'avevo ancora sfidato faccia a faccia È fortissimo Ti distrugge È fatta proprio apposta È una figata È una figata Mi ho ammazzato due Mi ho ammazzato due Vado sul Juggernaut Dov'è? È qui Eccolo Mi sta dando le spalle Lo spara raffica Vai Gli ho tolto un sacco di vita Però il nostro è più basso Guarda gli vado davanti Mi uccide No ma sta morendo il nostro Sta morendo malissimo Sta morendo il nostro Ma cosa sta combinando? Dov'è poi? Perché sta lì in mezzo? Dannazione No Cioè ce l'ho Allora C'è uno scarsone Cioè come ha fatto a morire? Stava in mezzo così capito Sparatemi Eh non capiva nulla Non capiva Cioè ok che è forte ma non esagerare Non capiva nulla Ma qua con i doppi 2005 ci dà Cioè pensa alla tristezza Quando ti paga normalmente Cioè vabbè Cioè ma Ma Qualche soldo in più Loro hanno fatto 5.700 Non è che paga bene Forse ha più round Metti il pollicione E facciamo rigioca Mr. Cake Forever Ha lasciato la partita E ci ha fatto perdere istantaneamente Io l'ho detto che era un juggernaut terribile Cioè l'ho detto L'ho detto Cioè non ci credo Non ci voglio credere Abbiamo perso contro Babbo Natale Mr. Cake Forever Verremo a prenderti Comunque se quello là Ascoltami un attimo Aveva la barba da Babbo Natale Vuol dire che se vai all'acconciatura per i capelli Hai un sacco di cose Bisogna andare a controllare Io direi di dare un'occhiatina dopo Bisogna andare a controllare Finiamo di fare i soldi per la tua casa Sì esatto E andiamo a controllare Mi sono comprato Una nuova macchina fatta apposta Per il periodo della neve Ti piace? Che cos'è? È un furgone Un mezzo fuoristrada furgone Non è bellissimo eh Non è bellissimo È perfetto perché sta città È proprio una macchina a tema Per la città E per il clima che c'è Voglio andare a vedere Mentre tu arrivi Voglio andare a vedere Un pochettino Se possiamo davvero mettere Le catene alle ruote Per questo periodo natalizio Perché nel caso Avrebbe senso perché Sarebbe una figata Le macchine slittano davvero tanto Comunque chiaramente Abbiamo fatto i soldi Abbiamo fatto un altro po' di Juggernaut Poi ci siamo spostati Su altre modalità Abbiamo fatto i soldi Per la casa di Ferrenichi Quella modalità un po' deludente A livello di soldi Spero ci pagasse un po' meglio Quindi ci siamo dovuti arrangiare Con altre attività E non ve le abbiamo fatte vedere Per non annoiarvi No se no facciamo vedere Solo attività Ruote Tipi di ruote No Dovrebbe essere su pneumatici Ok No No Modifiche Non c'è nulla Ci sono le gomme antiproiettili Che per il più niente abbiamo Poi i colori I cerchioni Tipi di ruote Guarda Tutti in questa città Hanno la mia macchina Sei terribile Sei terribile Però aspetta Se io rubo questa Che c'ha il traino E me la porto a casa Ok Eh che cosa vuoi fare? Avrò la macchina per sempre Col traino? No ne ho la più Ma cosa te ne fai poi? Cosa te ne fai? Scherzi C'è la carriola Ci sono un po' di attrezzi Ma chi se ne frega? Aspetta un attimo Aspetta No 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 Mico 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 Dagli un cazzotto Dagli un cazzotto Prima che mi butti giù Fatto Ok perfetto Mi metto qui dietro Vai Aspetta È difficile guidare Con sto coso dietro Non so se lo voglio Questa macchina Ha più problemi Di quella che avevo Per guidare con la neve Quindi alla fine Ma ti hanno messo la taglia? Ma sei caduta? Eh sì Ma mi hai buttato giù la carriola Vai Finalmente la mia casa Non vedevo l'ora Un tatuaggio a tema natalizio Io non so se lo troveremo Ma spero di sì Perché sarebbe epico Il tema della puntata è quello Magari Sempre qualcosa da ricondurre Con molta fantasia La troveremo Era questa Vai Era questa Compra Fammi scendere Compra Fammi scendere Che bello Con il mio maglioncino Che si illumina Allora 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 Quindi prendo Seleziono Comprata Comprata Entriamo Che emozione Entriamo Sta arrivando Lo vediamo Io voglio stare Alla libro di Natale Oh ma è più bellissima È bellissima No È fantastica C'è scherti Ci sei rimasto male Ti sei offeso Adesso andiamo a vendere la mia E io vivo qua per sempre No avevo ragione Che questa era più carina Già da fuori Si vedeva comunque Allora vediamo Guarda l'albero di Natale qua Cioè guarda com'è redata È una bomba È troppo caro Guarda la tv Poi ma guarda Che accidenti No hanno anche esagerato Comunque per il prezzo Io mi aspettavo qualcosa di un po' più Capito Un po' più sobrio Anche la cucina Anche la cucina è bellina È troppo carina Non ci posso credere Guarda sono troppo geloso Qua c'è il tavolo dove mangiare Poi cosa c'è? E poi E qui dovrebbe esserci la stanza da letto Che è bellina anche questa Non è possibile È un po' disordinata Ha un po' di vestiti in terra Sì ma è molto carina È molto carina Che poi ho notato che l'arredamento è tutto da donna Io non so se sia una coincidenza però I soldi mancano tutti nel bagno Prova a entrare nel bagno Andiamo a vedere il garage Seppure quello è più grande Brucio tutto Uso il mio cosopiro tecnico Il mio nuovo razzo pirotecnico Per bruciarti la casa Allora entra nel garage Faccio direttamente Ok Io ho citofonato al garage Ok Guarda che bello È gigante poi Ma è pure lucido È pure lucido Il tuo è buio Non ha neanche le luci Vabbè Sono felicissimo Sono felicissimo Sei triste? Sei molto triste in questo momento Me ne vado No dove stai andando? Me ne vado Dove stai andando? Vado dal parrucchiere da solo No adesso andiamo Non siamo più Brothers for Life No adesso andiamo No sì che lo siamo No I fratelli Ascolta non è colpa mia Non le potevamo vedere prima all'interno E li vivono nelle stesse situazioni No Tu invece sei ricca Io sono povero Ma che ricca No no Quella è una casa da ricchi cara Rispetto alla mia Questa volta non farò il tatuaggio Guarda il tuo Mi metto il tatuaggio Cosa vuoi fare? Lacrime amare Ma no li dobbiamo fare assieme No No Li dobbiamo fare assieme però Questa volta non è insieme Perché solo io sto piangendo dentro Tu sei felice Ma non è colpa mia Io sono triste E non possiamo fare una cosa assieme Quando proviamo sentimenti diversi No me lo faccio anch'io Non puoi Dobbiamo farli Sì no Sei felice tu No dobbiamo farli assieme Dobbiamo farli assieme Sì ma tu sei felice Quindi non puoi farlo Quale stai facendo? Non te lo dico Ho deciso Dimmi Unforgiven Ovvero Imperdonabile Ogni riferimento È bruttissimo È puramente casuale È bruttissimo Noi dovevamo fare un bel tatuaggio Carino tutti assieme Per Natale Invece non ce li mettono Dì la GTA che non li fa Dai Vado Quindi L'unica cosa che resta È il fatto che non è perdonabile Quindi vedi Brothers for Life Se tu noti È alla stessa altezza Sì Della serie Guarda che ancora non ti ho perdonato Il tatuaggio rimane perché non lo posso togliere Ma non ti ho perdonato Capisco? Allora facciamo così Capisci Per ora facciamo questo unforgiven Quando mi avrei perdonato Da me per fortuna non si vede Sì Quando mi avrei perdonato lo toglieremo È un tatuaggio che si potrà togliere quando mi perdonerai Anche poi capito Come se fosse colpa mia Accidenti a te Ti scegli una casa che fa schifo E mi dai pure le colpe Capito? Ok quindi dici che lo teniamo per un periodo limitato Sì dai perché alla fine poi possiamo dare spazio ad altri tatuaggi Pensa che qualcuno poi Ecco qua Ecco qua Provaci di nuovo e t'ammazzo davvero Nella realtà guarda Avevi la taglia Dicevo anche perché poi non so quanto ancora avremo spazio per tatuaggi Quindi diciamo che sarà il primo che se ne va la via Oh ti ho rubato 60 dollari Sto in disgraziato Avevi la taglia da 3000 quindi Era il primo passo per perdonarti Per farci perdonare Ok Si capisci Quindi ne è valsa la pena Comunque ragazzi ci fermiamo così per questo video Speriamo che vi sia piaciuto Prossima settimana E faremo di nuovo su serio Vediamo un pochettino con cosa scatenarci per fare soldi Ma adesso c'è un solo vero obiettivo Arrivare a creare la nostra organizzazione Abbiamo le case Sono abbastanza belline Siamo vestiti in modo carinissimo Guardate che belli che siamo Che belli di così Siamo abbastanza armati Quindi ora l'obiettivo è creare la nostra organizzazione Quindi ci serviranno parecchi soldi Per iniziare il nostro traffico di merendine Wow All'albicocca Ah beh Ok Io preferirei al cioccolato ma va bene No no albicocca Altrimenti non ti perdono Ok Non d'accordo E quindi inizieremo a fare tutto Dei passaggi per riuscire ad arrivare Ad avere la nostra associazione Che sarà formata da due persone Perché per fare merendine Due persone bastano Esatto Sì Bene che ci successe così Stai giusto Sciendici un bel like E se è la prima volta che vedete il nostro video Potete considerarli Da iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao 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 Ciao